buongiorno signori e ben ritrovati nel mio canale sono ancora qui alle canarie aspettate che vi faccio vedere ok terrazzino fronte mare ragazzi sempre qua sempre quasi sta da dio benissimo durante il corso di questo video vi andrò a fare una recensione di quella che è la cripto punto com cart la carta di debito di cripto punto com che ci permette di spendere cripto valute o ci permette di prelevare le nostre cripto valute nei vari bancomat mi è arrivata quando ero in italia però non l'ho mai provata quindi quale migliore occasione di poterla provare qui alle canarie tra l'altro sono le 10 e 20 è la terza volta che registro questa parte perché la prima volta non avevo l'audio che il microfono andava la seconda non mi aveva inquadrato bene quindi ragazzi ok io ho già fatto una corsa quindi sono andato a correre e ho letto diciamo che nella mia routine poi potrebbe essere interessante magari che vi porti un video della mia routine o di come è cambiata la routine di quelle che sono le cose che effettivamente io vado a metterci dentro ogni giorno sto cercando di mantenere il fatto di andare a leggere almeno 10 facciate al giorno e di fare un'ora di attività fisica al giorno che sia palestra che sia corsa insomma secondo me è importante e questa cosa da quando ho iniziato a metterci dentro l'attività fisica diciamo che anche il business ne ha risentito positivamente e quindi niente questa mia routine qua alle canarie poi vi ripeto vedremo se vi porterò con me diciamo che ho intenzione di realizzare diversi video da qua il primo video che voglio fare assolutamente è un video relativo al settore immobiliare delle canarie un settore immobiliare che sta crescendo tantissimo queste isole insomma il numero il numero degli abitanti che è presente in queste isole è aumentato moltissimo in questi ultimi anni appunto perché capite trovare delle isole a quattro ore dall'europa con 12 mesi su 12 caldo praticamente ragazzi è sempre caldo soprattutto qua a gran canaria basta prendere la macchina andare al sud e io sono alla spalma ma basta prendere mezz'oretta di macchina e trovate sempre a 27 28 gradi e poi vorrei portare un altro video su una differenza sulla differenza di aprire un'attività in italia e aprire un'attività alle canarie le canarie offrono una tassazione agevolata soprattutto per chi lavora online e per chi si trasferisce qua insomma dall'italia ma anche da altri paesi d'europa quindi rimanete connessi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti questi video relativi alle canarie ritengo che potrebbero essere ecco molto molto interessanti adesso direi che vi ho detto tutto quindi appunto sono le 10 20 io ho corso ho letto ma non ho ancora fatto colazione ho una fame assurda quindi vado giù e provo subito la carta si siamo tutto molto fico ma come funziona la carta allora cripto punto com è un exchange di cripto valute molti di voi lo conosceranno perché ha fatto una pubblicità lo trovate come principale sponsor della serie a che offre la possibilità io adesso sono nel sito ufficiale che vi lascio nella descrizione del video di comprare vendere scambiare cripto valute e appunto offre la possibilità di richiedere la carta di debito di cripto punto com che sono queste qua che voi state vedendo in screen siccome questo video è riguardante la carta andiamo a cliccarci sopra ed eccoci qua queste sono le tutte le carte di debito che l'exchange cripto punto com mette a disposizione questa è la classifica degli exchange cripto cripto punto com è al quarto posto dopo binance ok x e coinbase quindi exchange sicuramente valido ed affidabile come come dobbiamo andare a leggere questa schermata praticamente vedete che c'è un cr o stake per esempio nella carta obsidian che è quella di del massimo livello c'è uno stake di 350 mila euro e a seguire 35 mila euro 3500 euro 350 euro la carta che sono andato a ad utilizzare a richiedere io è la ruby steel per avere accesso a questa carta quindi come poter richiederla basterà andare a mettere in staking vi ricordo che lo staking è quella funzione che permette di che fondamentalmente ci fa bloccare i nostri soldi all'interno della piattaforma in questo caso noi dovremo andare a mettere in staking per sei mesi questa cifra quindi 350 euro che sarà chiaramente conservata in cr o all'interno della piattaforma siamo liberi chiaramente di poter scegliere una carta di valore di livello superiore però chiaramente l'ammontare di soldi che noi andremo a mettere in staking dovrà dovrà essere superiore lo staking chiaramente è uno staking fisso eccolo qua per la durata di sei mesi poi cosa succede che voi la carta la dovrete andare a richiedere dall'applicazione di crypto.com e dopo passo a telefono vi faccio vedere questa cosa una volta che voi l'avrete richiesta la carta vi arriva direttamente a casa e voi sarete liberi di spendere criptovalute appunto tramite la carta che andrete a scegliere come potete vedere ogni carta un cashback cosa vuol dire questa cosa che per esempio in questa carta che è quella di livello superiore c'è un cashback dell'8 per cento significa che ogni qualvolta noi spendiamo con la carta di crypto.com obsidian riceveremo un 8 per cento di cashback indietro sulla nostra spesa in cr o quindi il cashback in cr o quindi il cashback ci viene dato nella valuta di crypto.com momento sponsor ti ricordo che ho creato l'accademia revolution academy che si basa sulla formazione per quanto riguarda il mercato forex e il mercato crypto questi sono i tre prodotti che attualmente noi offriamo quindi un corso i crypto un corso forex e la possibilità di acquistare tutti e due i pacchetti assieme sono dei percorsi pensati da zero quindi puoi trovare le basi di quanto riguarda il mondo crypto le basi di quanto riguarda il mondo forex e chiaramente man mano che il corso va avanti in totale sono più di 80 video più delle live che svolgiamo a settimana potrai formarti e rimanere sempre in contatto con me acquistando uno dei tre corsi avrai accesso alla community privata per sempre inoltre per quelle persone a cui non bastano i corsi e i video gratis su youtube do la possibilità di effettuare delle coaching delle lezioni private one on one direttamente con me sempre nel sito puoi trovare il pulsante chiederci informazioni e prenotare il tuo percorso personalizzato ti ricordo che tutti i link sono qui sotto fine del momento sponsor ora ritorno al video stessa cosa per la frosted rose gold and la icy white quindi abbiamo un 5 per cento di cashback sulla mia personalmente o un 2 per cento di cashback oltre a questo abbiamo in base alla carta che scegliamo dei benefici quindi per esempio nell'obsidian vedete abbiamo sia la possibilità di avere spotify rimborso spotify rimborso netflix rimborso amazon prime 10 per cento di sconto su airbnb le lingerie portuali gratis la possibilità di guadagnare dei bonus esclusivi la partnership con dei jet privati insomma diciamo che la maggior parte delle persone comunque va a richiedere questa carta che è la ruby steel che appunto richiede solo lo staking i 350 euro quando voi ricevete questa carta quindi quando voi andate a mettere in staking 350 euro riceverete inoltre un bonus di 25 dollari in cr o direttamente all'interno della vostra applicazione quindi direttamente all'interno dell'exchange crypto.com che potrete andarli a convertirli in euro cripto valute o spenderli appunto subito tramite la carta quindi questa è come funzionano le carte di crypto.com adesso mi trasferisco nell'applicazione vi faccio vedere come noi riusciamo a gestire tutto da app la schermata delle carte perfetto quindi eccomi qua sul mio telefono con l'applicazione crypto.com la potete vedere qua la potete scaricare chiaramente da play store o google store una volta che scaricate l'applicazione chiaramente cosa dovete fare aprirla quindi apro l'applicazione ecco qua mi chiede il codice di accesso l'ho già spiegato in un altro video nel video completo relativo a crypto.com comunque possiamo mettere in sicurezza l'account andando a mettere un codice quindi un codice che ci verrà chiesto prima di entrare nell'applicazione quindi metto il codice e mi ricollego subito a voi perfetto quindi questa è la schermata base adesso non sto qua a spiegarvi tutte le funzioni perché l'ho già spiegato nel tutorial generale quindi vi lascio qua in alto a destra la scheda se non ve l'ho lasciata prima insomma che così potete andarvi a vedere tutto vi ricordo che potete registrarvi tramite il link vedete che c'è il pulsante invito ottieni 25 dollari quindi se voi vi registrate tramite il link che trovate nella descrizione del video andate a mettere i staking 350 dollari per la ruby steel che è la carta che vi ho mostrato io otterrete un bonus di 25 dollari subito prelevabile convertibile in altre criptovalute eccetera eccetera la sezione carta molto semplice la trovate in basso a destra quindi vado a cliccarci sopra e praticamente guardate adesso io ho il saldo coperto svuoto il saldo vi ricordate che avevo 50 euro e fondamentalmente io avevo 50 euro dentro la carta e io questa parte la sto registrando non dopo la colazione ma il giorno dopo vedete ho effettuato anche delle altre piccole spese quindi le capo che è la colazione claudio simio marrero and palm caffè ok molto bello perché ogni volta che noi andiamo a spendere tramite la carta vedete ci viene fuori la notifica direttamente all'interno dell'applicazione primo l'applicazione cripto.com ci manda una notifica ogni volta che spendiamo con la carta ma bello perché riusciamo a trovarci tutte le transazioni all'interno dell'applicazione quindi vedete lunedì 7 marzo per esempio io ho effettuato queste spese molto molto semplice adesso un'ultima cosa che dovete conoscere praticamente se voi andate nel pulsante in alto a destra trovate innanzitutto il pin della vostra carta vedete che c'è il pulsante visualizza pin e trovate tutti i dettagli della carta quindi trovate cosa vi dà questa carta fondamentalmente la mia mi dà il rimborso di spotify e il 2 per cento di cashback inoltre potete attivare l'utilizzo internazionale quindi utilizzarla fondamentalmente da qualsiasi paese possiamo anche visualizzare il numero della carta cliccando vedete su visualizza numero carta e possiamo eventualmente bloccarla nel caso ci fosse nel caso ci fosse rubata quindi cliccando sul pulsante blocca noi la bloccheremo ci arriva una transazione che non è stata effettuata da noi possiamo bloccarla istantaneamente entrando nell'app di cripto.com poi ultima cosa cosa abbiamo tre pulsanti vedete il pulsante ricarica che ci permette di ricaricare la carta tramite per esempio un saldo esterno in bitcoin ethereum tether insomma possiamo scegliere la cripto valuta che preferiamo e andare a ricaricare la carta con quella cripto c'è una cosa che non mi è piaciuta cioè il fatto che una volta che noi possiamo andare di inviare i soldi all'interno del wallet card non possiamo più andarli a inviare all'interno dell'exchange una volta si poteva spero che sistemeranno questa cosa spero che l'exchange sistemerà questa cosa però capito una volta che trasferiamo soldi compriamo cripto le inviamo al wallet card non possiamo più spostarceli dal wallet card al wallet spot ripeto è una cosa che il team di cripto.com sicuramente andrà a sistemare quindi niente la carta cripto.com è questa una carta che ci permette di spendere criptovalute e ci permette di prelevare al banco ma tra le nostre criptovalute ci sono dei limiti quindi vi lascio nella descrizione del video i limiti della carta e i limiti di prelievo deposito assieme al sito ufficiale di cripto.com e assieme al bonus dei 25 dollari che voi potete andare ad ottenere richiedendo la carta quindi trovate tutto nella descrizione del video io per oggi ho finito mi raccomando lasciate un like se il video vi è piaciuto per supportare il mio lavoro e noi ci vediamo nel prossimo video ciao raga ciao 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 ciao